Speranze di giocarsi playoff contro la seconda del campionato di eccellenza ai minimi storici per il Lanciano, ma la matematica tiene ancora in ballo gli uomini di Bellet e diventa dunque cruciale lo scontro del Biondi contro il già retrocesso Villa 2015. La cenerentola di Mister Vitale vuole però reagire e salvare, almeno parzialmente, la faccia dopo lo 0-8 subito dal Ponte Vomano nell'ultimo turno. Spazio dunque alla gara, il Lanciano si rende pericoloso per la prima volta all'undicesimo minuto. La conclusione scagliata verso la porta del giovane Gian Giacomo viene però respinta dal numero uno ospite, che tiene a galla il Villa in questo avvio di match. I padroni di casa rischiano però tantissimo al ventitresimo minuto con un tentativo di suicidio della difesa guidata da Elesai. Proprio il portiere frentano si esibisce in un dribbling rischioso al limite della sua area di rigore, si fa rubare il pallone da Piccozzi che però, a porta sguarnita, conclude incredibilmente alto. Il pallone buono per sbloccare la gara a favore dei rossoneri arriva tra i piedi di De Fabrizis, lanciato eccellentemente verso la porta di Gian Giacomo. La sua conclusione davanti all'estremo ospite è morbida e lo stesso portiere si oppone salvando il Villa. Ancora pressing del Lanciano al ventisettesimo, direttamente dagli sviluppi di un corner, Isegni arriva a concludere completamente libero sul secondo palo, ma scarica sul fondo rispetto alla porta difesa da Gian Giacomo. Ancora padroni di casa pericolosi, stavolta dall'out di destra con una bella convergenza verso il centro di Alessio Rei. La sua conclusione non gira quanto bassa però e si spegne non lontana dalla porta del Villa. A sorpresa passa in vantaggio proprio il Villa approfittando di una lettura difensiva rivedibile da parte di Tissone. Sulla sfera arriva Mattia Piccozzi, abile stavolta a mettere in mezzo per la corrente Samuele Rossi. La conclusione è ravvicinata ed imparabile per Elezai con lo 0-1 ospite che sorprende il Biondi. Il Lanciano è frassornato dal centro del Villa e rischia addirittura di subire il doppio svantaggio. La conclusione a girare di Dincecco, sibile al fianco del palo destro di Elezai, al quarantesimo con il portiere del Lanciano che può soltanto guardare e sperare. Una reazione degli uomini di casa arriva a due minuti dalla fine del primo tempo con Bocchio lanciato verso la porta di Gian Giacomo. Il suo tentativo è però impreciso ed il risultato parziale non cambia fino al duplice fischio del signor Carluccio della sezione di L'Aquila. Con le immagini di Claudio Senerchia siamo al secondo tempo e la prima occasione è tutta in favore del Lanciano. Su un pallone calciato verso il centro dell'area di rigore infatti Campagnol Bocchio riesce a concludere verso la porta del Villa ma il portiere Gian Giacomo ancora una volta salva con un bel volo. Ancora Lanciano intorno alla metà del secondo tempo con una bella giocata sull'out mancina da parte dell'entrato Fragassi il centrocampista riesce a mettere in mezzo un ottimo pallone ma l'uscita di Gian Giacomo salva in extremis il club di Mister Vitale. Il pressing dei padroni di casa prosegue per tutta la ripresa e l'estremo ospite vola anche al ventinovesimo bloccando in due tempi anche sul fuoco amico. La deviazione in porta di un uomo del Villa diventa infatti l'occasione più importante per il Lanciano ma Gian Giacomo si mostra ancora una volta pronto e salva il risultato. Gli uomini di bellezza fondano finalmente la resistenza del Villa a sette minuti dalla fine grazie a uno dei migliori della ripresa. Fragassi è infatti eccezionale nel pescare al centro dell'area di rigore la riete Bocchio il cui colpo di testa è assolutamente imparabile per Gian Giacomo e vale l'uno a uno. Il Lanciano si rovescia all'assalto degli ospiti e grazie ad uno spunto eccezionale di Alessio Rei passa meritatamente in vantaggio a soli quattro minuti dalla fine. L'esterno destro salta infatti un paio di avversari converge sul mancino e conclude secco verso la porta di Gian Giacomo trovando il 2 a 1 che potrebbe lasciare aperta la corsa playoff dei padroni di casa. Proprio per la possibilità di disputare gli spareggi di fine stagione in casa frentana sarà dunque decisiva la prossima trasferta sul campo dell'Aquila dove gli uomini di bellezza avranno un solo risultato a disposizione per continuare a cullare il sogno. Con Samuele Rossi del Villa oggi un bel gol e soprattutto una bella prestazione su un campo comunque difficile. Sì una bella prestazione l'importante oggi è reagire dall'ultima sconfitta in casa l'abbiamo fatto peccato per il risultato perché sicuramente meritavamo qualcosa in più però l'importante come ho detto è reagire e l'abbiamo fatto. Quindi una bella prova di dignità queste sono magari le basi in vista di quella che sarà la prossima stagione. Sì sicuramente noi abbiamo sempre onorato ogni partita e lo faremo fino alla fine e fino alla fine del campionato e ce la metteremo tutta appunto fino all'ultimo secondo dell'ultima partita. Con Misser Bellè, Misser una vittoria importantissima perché insomma tiene in qualche modo in piedi il discorso playoff. Sì vittoria importante perché questo stemmino qui bisogna onorarlo perché è uno stemmino pesante, uno stemmino che conta nel calcio e oggi ragazzi malgrado confusione. Il primo tempo è stata una bella partita fatta bene, giocata bene, abbiamo avuto delle occasioni, non abbiamo concretizzato. L'unica opportunità che abbiamo concesso al Villa l'hanno pulito perché il calcio ha anche fatto di questo. Secondo tempo male, confusionari, infatti ho rischiato fino alla fine di mettere il più punte possibile perché proprio nella confusione poi dobbiamo essere bravi nelle seconde palle, lo siamo stati. Partita confusionale al secondo tempo e l'abbiamo ribaltata. Questo è il calcio, va dato atto alla squadra che ci ha messo tutto il cuore per raggiungere questa vittoria e poi le partite che ci rimangono da giocare ce la metteremo tutta.